Wabalaba dub dub e bentornati su No Mamamazzo, oggi è di nuovo il Marvel D e parliamo di nuovo di un retro movie perché purtroppo sono invecchiato e questo film fantastico ormai ha quasi 20 anni, sto parlando di Spider-Man 2 del 2004 di Sam Raimi Prima di cominciare se non siete ancora iscritti iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che ve frega condividete il video con tutte le persone che conoscete che sanno arrampicarsi sui muri e commentate qui sotto con quello che ne pensate di questo film scrivetemi qual è il vostro film preferito di Spider-Man della saga di Raimi e qual è il vostro film preferito di Spider-Man in assoluto e viceversa anche quello che vi piace di meno così accendiamo un pochino il dibattito, parliamone Spider-Man 2 del 2004 di Sam Raimi, considerato ad oggi il film migliore a livello cinematografico della trilogia di Raimi a livello registico quantomeno, non ha comunque incassato quanto il primo, ha incassato 789 milioni di dollari ma è comunque una cifra esorbitante per un secondo capitolo pensate se fosse stato della Disney probabilmente avrebbero cambiato regista al terzo perché la Disney pretende che il secondo guadagni più del primo o se no è un insuccesso ma nel 2004 non era questo il trend, il film è stato un successo al box office perché è il migliore a livello cinematografico? perché innanzitutto c'è un ottimo approfondimento della trama anche rispetto al primo film e soprattutto rispetto al primo film c'è un villain che è trattato molto meglio, molto meno macchiettisticamente che nel primo film prima di entrare nel vivo volevo dire una cosa che riguarda anche Spider-Man 1 dovete sapere che il logo Marvel con i fumetti che sfogliano e danno origine appunto al famosissimo ormai famosissimo logo partono proprio da Spider-Man 1 e da Spider-Man 1 poi li hanno ripresi tutti quanti dovete sapere che nonostante X-Men del 2000 fosse uscito appunto due anni prima di Spider-Man non aveva questo logo non parliamo nemmeno di Blade eccetera è partito tutto da Spider-Man 1 poi tutti gli altri film anche quelli della Fox hanno ripreso questo logo quindi poi da X-Men 2, Fantastici 4, Daredevil eccetera 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 mentre per quanto riguarda i cameo di Stan Lee quelli erano già cominciati con X-Men 1 di Bryan Singer dove vediamo Stan Lee in spiaggia che assiste alla mutazione del senatore mentre in Spider-Man 1 e 2 lo assistiamo sempre tra la folla che rischia di beccarsi qualche detrito di roccia che cade dai palazzi e nel primo scappa per la sua vita nel secondo invece salva un passante da un detrito che cade dalla lotta che c'è dall'alto tra Spider-Man e Dr. Octopus ma partiamo dall'inizio partiamo dai lunghissimi titoli di testa che ormai simboleggiano questa trilogia se i primi, quelli di Spider-Man 1 sono davvero invecchiati male perché c'era questa CGI degli anni 2000 che ti faceva un attimino intravedere l'eroe Spider-Man che si avvolgeva nelle ragnatele qua invece hanno davvero molto più senso perché in un'epoca dove non era tanto usanza che la gente nerd andasse al cinema già appurato che avesse visto tutti i film precedenti per esempio del Marvel Cinematic Universe per esempio in Avengers non c'è un recap di quello che è successo prima tu devi averli visti se no non capisci un cazzo invece qua i titoli di testa di Spider-Man 2 spiegano con dei disegni questa volta quindi non più con la CGI grosso modo spiegano la trama di Spider-Man 1 e come si è arrivati al punto in cui inizia Spider-Man 2 quindi sono davvero davvero molto utili c'è sempre il prologo iniziale con Peter che parla in prima persona pensa in prima persona che ricorda un po' anche le vignette i balloon dei pensieri, dei fumetti vediamo che è un Peter squattrinatissimo esattamente come nei fumetti infatti non vive più nel fastoso fantastico appartamento dove era con Harry Osborn in Spider-Man 1 perché non c'è più Norman Osborn a pagare le spese e Harry Osborn ha dovuto lasciare a quanto ho capito gli studi per occuparsi dell'azienda del padre Peter ovviamente da solo non poteva permettersi quel fantastico appartamento e quindi lo vediamo in una bettola orrenda che non ha nemmeno il bagno nella stanza il signor Diktovich omaggio a Steve Dikto chiede sempre l'affitto per quella bettola in cui vive e tant'è che Peter è costretto a fare ben due lavori in uno è il solito fantasticissimo fotografo freelance del Daily Bugle sempre presente in questa trilogia il secondo lavoro è consegnare le pizze il ragazzo delle pizze e va in giro con un orrendo ciao che è un motorino degli anni 80 che noi chiamiamo ciao se non sapete cos'è il ciao è un motorino orrendo cioè un motorino molto molto semplice è una bicicletta più che un motorino che può essere una vaghissima citazione a quando Peter Parker universitario aveva comprato una motocicletta ma era una signora motocicletta qua invece è davvero un mezzo poverissimo per spostarsi a New York quando non può usarle ragnatele Peter è così indaffarato a fare questi due lavori e a gestire la sua vita da supereroe che non si ricorda nemmeno che è il suo compleanno e quando va a trovare zia May a casa sua nel Queens a Forest Hills trova la zia Harry Osborne e Mary Jane che gli fanno una piccolissima festa di compleanno a sorpresa zia May in questo film è immensa è forse il film che valorizza meglio la figura di zia May in questa trilogia commovente nella scena iniziale in cui nonostante stia per subire lo sfratto da casa sua ci tiene a dare 20 dollari al suo nipotino per il suo compleanno e si commuove nel darglieli e questa scena ti strazia dentro se avete mai avuto una nonna una zia un parente anziano che vi dà la mancia e voi sotto sotto sapete di non meritarla perché magari lo andate a trovare poco o perché non siete un bravo nipote o perché non siete una brava persona vi si stringe il cuore a vedere questa scena per non parlare della scena fantastica in cui zia May fa il discorso su cosa vuol dire essere un eroe discorso che ve lo metto qua sotto in descrizione discorso che serve anche come filo conduttore a Peter Parker per aiutarsi a sconfiggere il nemico finale è vero usa un pochino il potere dell'amore con questo discorso con Dottor Octopus ma qui siamo a livelli cinematografici immensi lontani dalle scialbe puntate di Flash che recensisco tutti i lunedì Sam Raimi è sempre molto molto attento a rendere omaggio alla fonte originale ovvero al fumetto vediamo che Peter Parker ha un momento di tenerezza con Betty Brandt al Daily Bugle quando Betty si rende conto che i soldi che deve dare a Peter per pagarlo non sono sufficienti a coprire l'anticipo di due settimane prima quel momento di tenerezza tra loro cita vagamente la relazione amorosa che Peter ha avuto con Betty Brandt quando ancora era al liceo e Betty Brandt che all'incirca quattro anni più di lui era già la segretaria di DJ Jonah Jameson ovviamente tutto questo accade prima che conosca Gwen Stacy e Mary Jane come dicevo Harry ha preso le redini dell'azienda del padre della Oscorp e sta finanziando niente popo di meno che il Dottor Octo Octavius quello che poi sarà il villain di questa pellicola Dottor Octopus dato che Peter è un gran secchione è molto intelligente non è un genio ma è davvero davvero molto intelligente sta scrivendo un saggio sulla fusione proprio dedicato a Octo Octavius e sfruttando l'amicizia con Harry Osborn a modo di conoscere il cattivo di questo film questo film pesca a piene mani dal numero 50 di Spider-Man dal titolo Spider-Man No More dove l'uomo ragno rinuncia alla sua attività di supereroe nel fumetto non perde i suoi poteri semplicemente si stanca di farsi un mazzo tanto e non avere nulla in cambio non avere la gratitudine della sua città in cambio e quindi rinuncia a essere Spider-Man qua invece lo vediamo proprio attraversare un momento di stress psicofisico che lo priva anche dei suoi poteri uno stress che è più o meno una crisi d'identità lui non sa più chi è non sa se è Peter Parker non sa se è Spider-Man non sa chi vuole essere tutto dipende dal fatto che alla fine di Spider-Man 1 Peter rinuncia al suo amore per Mary Jane per evitare di metterla in pericolo e si finge di amarla solo come un amico quando in realtà è innamorato di lei da sempre questa lotta interiore lo porta a sviluppare questo stress che gli fa perdere i poteri la cosa curiosa a cui non avevo fatto caso a una prima visione di Spider-Man è che Otto Ottavius l'aveva previsto nella scena iniziale quando Otto Ottavius e Peter Parker cenano insieme alla moglie di Otto e la moglie di Otto chiede hai una ragazza Peter dice non lo so eccetera è una cosa segreta Otto dice a Peter se tieni una cosa così complicata come l'amore segreta va a finire che ti ammali ed è quello che succede nel film Peter proprio perché tiene segreto l'amore che prova per Mary Jane si ammala si ammala di qualcosa di psicologico ovviamente se ci fate caso riguardando il film Peter inizia a ammalarsi dal momento in cui vede Mary Jane che bacia John Jameson e guarisce nel momento in cui Mary Jane viene rapita dal Doctor Octopus e lui è così in ansia per la sua incolumità che non vada più a tutte le altre stronzate e l'unico suo obiettivo è salvare Mary Jane e quindi guarisce da questo suo periodo di stress come già detto nel video scorso su Spider-Man 1 questo Spider-Man ha le ragnatele organiche non ha i lanciaragnatele le ragnatele gli escono direttamente dai polsi ma in questo film Peter Parker quando appunto è stressato perde i poteri tant'è che non gli escono le ragnatele dai polsi peccato che questa sarebbe stata un'ottima occasione per introdurre i lanciaragnatele nel secondo film cosa che invece non l'hanno fatta peccato un'occasione sprecata avrebbe semplificato magari un po' di cose avrebbe potuto introdurre delle cose interessanti nel prossimo film come per esempio lui che finisce il fluido di ragnatela qualcosa del genere però vabbè è andata così come dicevo il nemico in questo caso è davvero approfondito non è bidimensionale innanzitutto lo vediamo all'inizio come un essere umano una persona completa con una moglie con un obiettivo con uno scopo nella vita un sogno lo vediamo addirittura redimersi nel finale e le stesse braccia meccaniche di Otto Ottavius non sono mai state trattate così bene come in questo film c'è un fantastico legame quasi emotivo tra Otto e le sue braccia ciò nonostante questo legame queste braccia così senzienti ancora una volta de-responsabilizzano il villain principale così come nel primo film Norman Osborn pareva non avere la responsabilità delle sue azioni perché controllato da Goblin anche in questo caso hanno trattato Otto Ottavius nello stesso modo ovvero una brava persona che vittima degli eventi vittima delle sue stesse braccia che ha creato è controllato da queste braccia ma lui non ne ha la minima responsabilità fa del male alle persone rapina delle banche ma è colpa delle braccia ecco questa de-responsabilizzazione dei villain davvero non mi piace specie perché parliamo di un film dove il live motive da grandi poteri derivano grandi responsabilità e un conto è se il regista avesse voluto che il villain non si sentisse responsabile delle sue azioni ma qui pare proprio che sia il regista stesso a dare il messaggio che i cattivi non abbiano colpa quando in realtà sono degli adulti fatti e finiti che hanno commesso dei reati sono dei villain sono dei cattivi senza contare che trattare il villain nello stesso modo sa proprio di già visto fortunatamente magari anche l'interpretazione di Alfred Molina ha aiutato o il fatto che comunque hanno scritto meglio il nemico per quanto riguarda i suoi obiettivi hanno reso il villain migliore del Green Goblin perché? perché questo ha uno scopo fondamentalmente anche quando si dà il crimine è perché vuole riportare in vita il suo sogno scientifico mentre Norman Osborn non aveva davvero degli intenti a parte una fame di potere facendo non si sa bene cosa la regia da Horror B Movie di Sam Raimi in questo Spider-Man 2 è centratissima nella scena in cui nasce Doc Ock in cui è in sala operatoria e i chirurghi provano a rimuovergli le braccia meccaniche queste braccia prendono vita e cercano di sopravvivere uccidendo i vari medici nella sala c'è anche una fantastica autocitazione a Ash e alla sua motosega della saga della casa la saga di Evil Dead quando un chirurgo cerca di segare via un braccio meccanico di Doc Ock ma viene appunto ucciso dalle altre tre braccia un'altra cosa fantastica di questo film è che non viene rapita la bella di turno cioè si viene rapita Mary Jane alla fine perché sono dei film che sono fatti in modo abbastanza uguale tutti e tre ma nella scena centrale non viene rapita Mary Jane non è in pericolo Mary Jane ma è in pericolo zia May quindi non c'è la gnoccona di turno in pericolo ma la cara e vecchia zietta di Peter il fatto che Octopus rapisca zia May e che quindi stiano in un certo senso abbracciati per questa scena è una citazione al fatto che zia May ha quasi sposato Octo Octavius nei fumetti così come per esempio Harry Osborn che annega i suoi dispiaceri nell'alcol è un chiaro riferimento a quando Harry Osborn inizia a entrare nel tunnel delle dipendenze da droga in questo caso nei fumetti poi se non sbaglio erano gli anni settanta o giù di lì dove era molto scottante il tema delle droghe endovenose quindi delle droghe pesanti e Harry Osborn che era è sempre stato dipinto come un figlio purtroppo dal carattere molto debole sottoposto diciamo a a questo padre autoritario che preferiva Peter a era ossessionato da Peter e non badava al proprio figlio questa questa spirale ha portato Harry Osborn nel tunnel delle droghe ora non ricordo quali perché non è che ho letto tutti quei fumetti ma lo ha portato a distruggersi in questo modo oltre ovviamente al siero del goblin Harry Osborn non è mai stato così antipatico come in questo Spider-Man 2 è sempre è ossessionato dalla morte di suo padre ce l'ha con Spider-Man appunto si butta nell'alcol perché non sostiene più il peso di tutto quello che gli succede intorno ed è molto strano vedere un personaggio del genere che abbia diciamo che sia cresciuto così in fretta rispetto a Peter perché comunque è coetaneo di Peter e nel 2002 si erano comunque diplomati quindi in America ci si diploma a 18 anni questo film è ambientato due anni dopo perché zia May stessa dice sono due anni che zio Ben non c'è più e quindi dovrebbe avere vent'anni vedere un ventenne così adulto anche nel senso negativo del termine cioè che comanda l'azienda che comanda che fa il duro in giacca e cravatta che è strano molto strano cioè si nota proprio che l'attore è più grande del personaggio che deve interpretare a differenza invece di Harry Osborn Peter è ancora il classico ragazzo universitario ma in questo film è anche Ugo Fantozzi Sam Raimi si è divertito come non mai a far vedere quanto è sfigato Peter in questo film e siamo davvero a limiti fantoziani la scena in cui gli cadono i libri e la gente gli passa davanti e indietro sbattendogli il mio zaino sulla testa tra l'altro uno di questi era proprio il regista Sam Raimi la scena tra l'altro esilarante in cui è al galà e cerca di prendere i vari stuzzichini e non riesce mai a prenderne uno e quando finalmente prende un bicchiere è vuoto per non parlare del fatto che a quel galà è costretto in quanto fotografo ufficiale della serata a fotografare la sua amata con il ragazzo che andrà a sposare se avete visto l'altro mio video su Spider-Man 1 sapete che ho detto che Spider-Man 1 cita molto Superman di Richard Donner del 1978 anche questo Spider-Man 2 in un certo senso fa un po' omaggio a Superman 2 perché anche in Superman 2 nella parte centrale del film Clark Kent rinuncia ai suoi poteri qua non è Peter che ci rinuncia volontariamente ma li perde temporaneamente sempre parlando di omaggi a Superman c'è un'altra scena molto esilarante in cui Peter Parker con la sua semplice forza di ragno cerca di fermare un treno in corsa come avrebbe fatto Superman ovvero semplicemente parandosi davanti quando appunto poi non ci riesce usa le sue ragnatele anche se lì ripeto non è un genio è solo molto intelligente ma avrebbe benissimo potuto infangare i binari di ragnatele e le ragnatele che sono appiccicose avrebbero rallentato il treno in corsa invece ha lanciato le ragnatele attorno ai vari muri dei palazzi facendo questo effetto fionda ma ecco è questo che dico qua vediamo un Peter che usa i muscoli quando davvero avrebbe potuto usare mille idee molto migliori di questa nonostante Peter sia privo di poteri per gran parte del film cerca comunque di fare la cosa giusta una di queste cose che io all'epoca non mi aspettavo di vedere in Spider-Man 2 è il fatto che Peter confessi a zia May la sua responsabilità nei confronti della morte di zio Ben ovviamente senza dire che è Spider-Man ma semplicemente dicendo che avrebbe avuto l'occasione di fermare il ladro che poi ha ucciso zio Ben è stata una scena molto coraggiosa che ha fatto vedere quanto Peter abbia molto coraggio nel dire la verità nel dire una cosa del genere a zia May rischiando di perdere anche l'amore materno che zia May aveva per lui ma era un peso che aveva dentro da troppo è bello poi vedere come zia May con il dovuto tempo ha assimilato questa cosa e ha in un certo senso perdonato Peter facendogli questo fantastico discorso sull'essere un eroe nella scena dell'incendio di questo film che cita l'incendio di Spider-Man 1 vediamo che anche un Peter senza poteri di fronte a a una chiamata la chiamata la sua responsabilità si getta comunque tra le fiamme per salvare una fantastica bambina che in un paio di scene sembra quasi che sia lei a salvare lui purtroppo nota anche come qualcuno c'è rimasto morto c'è rimasto secco in in quell'incendio e lì capisce che se avesse avuto i poteri di Spider-Man forse avrebbe salvato un po' più di persone un'altra scena molto esilarante in cui Peter crede di essere tornato a essere Spider-Man quindi la scena che se vedete in inglese dice I am back I am back my back my back quindi sono tornato sono tornato la mia schiena la mia schiena è una citazione al fatto che quasi in questo film si rischiava di non avere Tobey Maguire come Spider-Man perché Tobey Maguire si era fatto male alla schiena girando il film Sea Biscuits e avremmo potuto avere Jake Gillengall come Spider-Man attore che poi ha interpretato Misterio in Spider-Man Far From Home ora per quanto io non abbia apprezzato molto lo Spider-Man di Tobey Maguire specialmente da Spider-Man 2 in poi avrei preferito avere uno Spider-Man lo stesso attore che interpretasse Spider-Man per più di un film e quindi quando avevo saputo la notizia che forse Tobey Maguire non avrebbe interpretato Spider-Man in Spider-Man 2 non ero molto contento anzi devo dire che ho anche rivalutato l'interpretazione di Tobey Maguire perché se è vero che ha sempre questa faccia un po' monocorde un po' dall'aspetto stanco che non esprime tanta gioia quando vuole essere il Peter Parker che nasconde un pochino le sue preoccupazioni con le battute come fa il Peter Parker universitario in realtà è molto bravo invece quando ci sono le scene tristi è molto bravo a piangere non è non è assolutamente facile piangere a comando non tutti gli attori ne sono in grado eppure Tobey Maguire già in Spider-Man 1 e anche qua riesce a farsi scappare una lacrima quando ci sono delle scene intense così come ho fatto per Spider-Man 1 quando ho rivisto il film per poter fare la recensione non ho usato i miei vecchi DVD ma ho sfruttato Netflix per vederlo in full HD devo dire che in full HD si notano un pochino un paio di green screen se avete un occhio allenato su queste cose noterete un paio di green screen che magari in qualità standard non avreste notato finalmente qua c'è un finale degno di nota ovvero dove appunto il villain che non è macchiettistico che non liquida il finale di Spider-Man 1 con un vai con Dio Spider-Man abbiamo un villain profondo che capisce fin dove era arrivata la sua follia e non vuole morire da mostro e quindi cerca di aiutare Spider-Man Peter Parker a salvare la città dalle sue stesse gesta finale che mi è piaciuto molto di più di Spider-Man 1 finale un po' più allegro rispetto a Spider-Man 1 dove Peter rinuncia all'amore della sua vita all'amore di MJ qua MJ scopre l'identità di Peter Parker e scappa dall'altare in cui l'aspettava John Jameson figlio di Jonah e va a rincorrere Peter a casa sua nel suo squalido appartamento ancora col vestito da sposa con un fantastico sorriso una scena molto femminista che magari adesso nel 2019 sarebbe l'ennesima scena forzata buttata lì per il political corret metteteci quello che volete insomma una scena un po' ridondante perché tutti la fanno ma nel 2004 era una scena davvero genuina e inaspettata MJ dice a Peter ho capito che tu mi vuoi proteggere che vuoi salvarmi dai tuoi nemici ma posso essere io a scegliere a avere io il potere di scelta sulla mia vita posso essere io a decidere se io voglio rischiare insieme a te questa vita e questo è un concetto molto avanti nel 2004 è una cosa che mi era piaciuta molto mi ricordo che già allora mi piacque molto questo tema come risoluzione del problema Peter non può stare con MJ io come sempre quando si parla di Spider-Man mi dilungo troppo scusate se i miei video sono un po' lunghetti su queste cose spero che vi piacciono comunque vi ringrazio per avermi seguito fino a qua e come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti